Disaster Recovery e Business Continuity, di che cosa parliamo? È un aspetto fondamentale e connesso nativamente con i concetti di erogazione dei servizi IT, è qualcosa di strettamente connesso a un altro modulo che potete ritrovare, di cui abbiamo parlato, che è quello relativo al numero di data center e al consolidamento necessario. Ridurre la superficie di interesse, quindi sostanzialmente ridurre il numero di data center, ci mette in una condizione di poter erogare servizi di Disaster Recovery e Business Continuity sicuramente più adeguati al livello qualitativo richiesto. Di che cosa si parla e che cosa sono in sostanza? Da un lato è la capacità di un sistema di reazione a eventi disastrosi e dall'altra è la capacità di dare continuità ai servizi erogati. A mano a mano che i servizi digitali diventano centrali nell'erogazione della parte centrale dei servizi stessi, questi fattori diventano cruciali e quindi di interesse fondamentale è da tenere sotto controllo a livello qualitativo e a livello di erogazione del servizio. Per descrivere un tema di questo tipo ho deciso di parlarvi di una vittima particolare degli eventi sismici recenti del centro Italia. Credo che abbiate sentito parlare dappertutto del server di Amatrice. Il server di Amatrice è uno di quegli oggetti vittima di quella frammentazione e di quella assenza di politiche e di soluzioni di Disaster Recovery e Business Continuity di cui stiamo parlando in questo modulo. Sostanzialmente cos'è avvenuto? È avvenuto che un piccolo comune del centro Italia a fronte di un evento ovviamente non predittibile si ritrova a perdere in un contesto del genere che ben conosciamo, quindi un evento sismico, si trova a perdere la fonte di informazione primaria di un comune. Questo perché ovviamente le dimensioni e le infrastrutture a disposizione di quell'ente non consentivano in nessun modo la messa in atto di politiche di Disaster Recovery adeguate. Giornalisticamente il problema è diventato del comune di Amatrice, ma da un punto di vista sostanziale il problema non può essere affrontato in quella maniera, non può essere delegato al singolo ente o al singolo piccolo comune una gestione di temi così importanti e spesso complessi dal punto di vista tecnologico. Proviamo a vedere perché non poteva essere delegato e perché questi temi sono complessi e meritano un approccio centralizzato e tecnicamente di natura molto elevato rispetto a quello che può essere chiesto al singolo ente erogatore. Quali sono i temi che dobbiamo tenere presenti? Quali sono i fattori che bisogna controllare perché si possa parlare di disaster recovery? Bisogna avere chiarissimi alcuni concetti e bisogna capire che cosa ci possiamo permettere e che cosa non ci possiamo permettere, di che cosa abbiamo bisogno e di che cosa non abbiamo bisogno. Le piccole variazioni percentuali rispetto a questi obiettivi variano il tema in maniera sostanziale. Bisogna chiaramente comprendere che abbiamo bisogno di proteggere cosa, di che cosa stiamo parlando quando parliamo di questi temi. Dobbiamo salvaguardare prima di tutto il nostro patrimonio di dati e bisogna salvaguardare in seconda battuta anche la capacità che abbiamo di continuare a erogare i servizi in certi termini e con quale rapidità. I temi che normalmente vengono affrontati quando si parla di disaster recovery sono sostanzialmente due. Quello che viene definito RTO è quello che viene definito RPO. Cioè di che cosa stiamo parlando sostanzialmente? Parliamo di capacità di ripristino e possibilità o impossibilità di perdita di dati a fronte di eventi clamorosi. Molto spesso la tendenza sarebbe quella di dire non possiamo perdere nulla, non abbiamo tempo a disposizione. Considerate che in questi casi naturalmente invece dobbiamo capire che cosa siamo realmente in grado di fare. Perché portare a zero la capacità di reazione in ambiti di questo genere è estremamente costoso. Quindi bisogna capire se effettivamente abbiamo bisogno di questi parametri e se questi parametri rispetto alle nostre capacità sono raggiungibili. Ecco perché probabilmente uno dei metodi principali per raggiungere effettivamente risultati accettabili è quello di non parcellizzare le iniziative ma è quella di centralizzarle e quindi di mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni, dalle più piccole alle più grandi, sistemi di disaster recovery e di business continuity, quando occorrono, centralizzate e come modelli di as a service e non come soluzioni adottate dalle singole organizzazioni. Dicevamo quindi RTO e RPO. Quando ci riferiamo a questi due parametri parliamo sostanzialmente di quantità accettabile di dati persi e quantità di tempo di interruzione nell'erogazione dei servizi accettabile. Come si risolvono questi problemi o come si riducono questi problemi? Ovviamente come dicevamo prima in genere il tutto è direttamente proporzionale anche alla quantità di investimenti che abbiamo a disposizione per poter realizzare questi risultati. Sono sostanzialmente tre le modalità che si mettono in campo che proviamo a descrivere senza scendere troppo nei dettagli tecnici ma che facciano sufficientemente comprendere i tre approcci normalmente seguiti in letteratura e che potrebbero essere utilizzati da strutture aggregate a seconda delle effettive necessità. Si tratta e si definiscono i cosiddetti shared systems in pratica quando replichiamo sostanzialmente le nostre strutture in luoghi diversi, in modalità sostanzialmente a continuità del servizio effettiva tale per cui i siti eroganti sono tutti in maniera totalmente autosufficiente disponibili. Si tratta quindi di sistemi molto costosi che mettono a disposizione degli utenti una sostanziale erogazione multipla del servizio. Ogni site, ognuno di questi siti dedicati a quel servizio contiene in sé la potenzialità di erogazione completa del servizio, contiene in sé tutti i dati di cui ha bisogno e sostanzialmente una replica a caldo di tutte le funzionalità e di tutti i dati necessari. Facile immaginare che è sicuramente il metodo migliore ma anche quello più costoso. Seconda modalità è quella che viene definita hot stand by. Il sito secondario è sempre allineato al sito primario ed è pronto ad essere attivato anche tramite repliche asincrone. E' quindi non del livello come quello che abbiamo descritto precedentemente ma necessita di alcuni passaggi tali per cui lo swap tra sito primario e sito secondario può avvenire in una modalità mediata. Cold stand by è quella modalità con cui il sito secondario viene allineato al sito primario tramite tecniche di restore dei dati solo e soltanto in presenza di un caso di disastro. Adesso questa terza modalità chiaramente in certi casi a secondo di certi servizi sicuramente ha dei tempi e delle modalità sia del RTO che del RPO diverse da quelle che abbiamo descritto prima ma probabilmente in certi casi può anche essere utilizzata in maniera strettamente connessa al tipo di servizio che stiamo erogando. Questa valutazione non va fatta in termini assoluti, va sempre fatta in stretta connessione tra tipo di servizio erogato, tipo di dati trattati e costi che la soluzione comporta. Come deve avvenire questa scelta e come dobbiamo utilizzare la soluzione migliore al nostro caso? Naturalmente quello che va fatto primariamente è una classificazione dei servizi. La classificazione dei servizi è quella che in qualche maniera ci indirizza verso la soluzione più adatta. La classificazione dei servizi normalmente viene effettuata su quattro livelli, quelli che vengono definiti mission critical, quelli che vengono definiti a alto livello di criticità, medio livello di criticità, basso livello di criticità. Mission critical vuol dire ovviamente che strettamente connesso a quel servizio viene messa in discussione l'erogazione proprio dei servizi istituzionali delegati. Quindi è chiaro che bisogna tenere presente questo aspetto nel momento in cui si decide che tipo di contromisure prendere in termini di disaster recovery o ancor più in temi di continuità del servizio. Quelle che riguardano un livello alto, quindi il livello 2, sono invece quelle che evidentemente hanno delle interconnessioni del livello istituzionale di erogazione dei servizi con le applicazioni strumentalmente collegate agli stessi. Quindi c'è una forte interconnessione tra i sistemi ICT e la funzione istituzionale, non a livello mission critical come quello che abbiamo descritto prima, ma di livello molto alto. Quindi l'interconnessione tra livelli applicativi e funzioni istituzionali è molto elevata e quindi necessita un'attenzione alta. Diciamoci la verità, in questo momento il trend chiaramente e probabilmente sempre più di qui in avanti, individuerà in sole queste due parti prevalentemente la catalogazione, perché sono sempre più le forme di interconnessione tra strutture ICT, applicazioni e funzioni istituzionali. Sempre meno quelle, fatemi dire, di natura meno impattante. Cosa può ricadere nei livelli medio e basso di classificazione dei servizi? Sicuramente quelli che hanno probabilmente nei servizi stessi una loro diversa natura, e quindi sicuramente tutti i servizi di back-end, tutti i servizi di autofunzionamento, tutti i servizi che hanno impatti minori in termini di sinergia e interazione con altri sistemi. Difficile che il peso possa essere collegato al legame o meno del servizio stesso con infrastrutture digitali. Quindi la classificazione dei servizi è fondamentale per una corretta individuazione delle politiche di disaster recovery e di continuità del servizio. Come entrano in funzione i sistemi di disaster recovery? Quando entrano in funzione i sistemi di disaster recovery? Tiriamo in ballo quello che normalmente viene definito il meccanismo di failover. Che cos'è un meccanismo di failover e quali sono le modalità in cui questo viene attivato? Ci sono tre macro modalità che normalmente vengono utilizzate e individuano i meccanismi di failover. Cioè il cosiddetto failover pianificato, quello che ci consente sostanzialmente di decidere autonomamente quando far entrare in ballo un sistema di disaster recovery e questa è quella situazione in cui le informazioni ci consentono di pianificare un'attività di questo genere tali per cui è possibile prepararsi al failover in modo da che sia semplificato anche quello che tecnicamente si chiama failback cioè il ritorno poi alla erogazione normale dei servizi. E chiaramente la situazione ideale è quella che normalmente si attua in un sistema di pianificazione di interventi di manutenzione programmata e cose di questo genere. Un failover non pianificato è il sistema più ricorrente che deve essere previsto ed è quello che viene attivato a seguito di un evento che rende non disponibile il sito principale. Chiaramente non siamo in questo caso in grado di mettere in campo tutte le azioni preventive che si possono utilizzare nel caso di un meccanismo pianificato e che soprattutto rendono agevole un sistema di failback per cui la modalità di ritorno e ripristino sicuramente è più faticosa rispetto a quella di un sistema pianificato. Il failover dovuto infine alla perdita senza nessun preavviso del sito principale è semplicemente dovuta a un evento disastroso non privo di qualsiasi preavviso e in questo caso il failback potrebbe comportare la necessità che la ricostruzione del sito principale avvenga in un sito diverso rispetto a quello originale. Pensate a un disastro tipo incendio o quello che abbiamo descritto all'inizio, anche un evento sismico o cose di questo tipo e naturalmente le politiche di ripristino che vengono messe a disposizione sono totalmente diverse a seconda dei tre casi che abbiamo affrontato. Cosa è utile sapere chiaramente? È utile che nei piani di disaster recovery che si stanno attuando vengano pianificate le attività che riguardano tutte le eventualità. C'è un aspetto nell'ambito del disaster recovery che viene sottovalutato e che invece deve essere posto nella giusta attenzione. Al di là delle necessarie attività di natura tecnologica vanno previste e pianificate le correlate attività di tipo organizzativo. Deve essere previsto per una corretta gestione di situazioni di questo tipo un gruppo di lavoro composito che deve prevedere necessariamente un comitato per la gestione della crisi. Nel 90% dei casi quello che capita in questi casi è che ci si trova di fronte quando non si è pensato a un piano di disaster recovery nella difficoltà di prendere le decisioni giuste nel comprendere esattamente chi sono le persone e le funzioni delegate a prendere decisioni in quei casi. Quindi deve far parte di un piano di disaster recovery anche la composizione di un comitato e quindi di un funzionamento. Deve essere previsto il funzionamento operativo, devono essere fatti gli interventi organizzativi necessari perché questo faccia parte del sistema di disaster recovery. I gruppi minimi dei quali non si può fare almeno sicuramente deve essere previsto un comitato per la gestione della crisi e quindi deve essere prevista eventualmente un gruppo di supporto al comitato. Il gruppo di supporto vuol dire una componente generalmente con coperture tecniche rispetto a un comitato che invece ha potere decisionale perché si tratta molto spesso di questioni tutt'altro che tecnologiche, si tratta di decidere come per quanto se interrompere alcuni servizi, come procurarne alternative e cose di questo tipo, fino a arrivare a poter disporre, strettamente connesso con gli altri gruppi, di un disaster recovery team all'interno del quale prevedere tutte le figure necessarie, un gruppo di assistenza agli utenti per esempio perché sono quelli che ovviamente vengono impattati da situazioni di questo tipo, un gruppo di reazione all'emergenza, l'emergenza potrebbe derivare da n motivi e quindi bisogna prevedere figure che si occupino di questi aspetti, così come bisogna prevedere dei gruppi che curano la gestione delle comunicazioni esterne con altre amministrazioni, con altre organizzazioni, il tutto perché tutte le attività reattive legate al piano di disaster recovery siano strettamente coordinate fra di loro e comportino il minor tempo di reazione possibile. Concludendo questo modulo, che cosa deve essere presente nei piani di disaster recovery sicuramente tutto quello che abbiamo descritto finora e ricapitolando tre aspetti fondamentali che danno un senso anche di non semplice ottemperanza ma di dinamicità del tema di cui stiamo parlando. Il piano di disaster recovery l'abbiamo descritto, è tutto quello che in qualche maniera deve prevedere, non può mancare su un piano di disaster recovery corretto, un piano di test di funzionamento del disaster recovery in assenza auspicabile di disaster, il sistema va testato ciclicamente con verifica delle funzionalità e di bontà dei meccanismi messi in piedi e non può mancare, e qualche volta viene sottovalutato, un piano di gestione ordinario del disaster recovery. Il piano di disaster recovery ovviamente nel momento in cui viene rilasciato fotografa una situazione tecnologica, una situazione organizzativa, una situazione organizzativa specifica, ma nessuna di queste tre componenti è staticamente stabile e quindi deve essere previsto una interazione collegata al change management dell'organizzazione, change management di qualunque genere, da quello tecnologico a quello organizzativo a quello normativo, per cui il piano di disaster recovery, il piano di test del disaster recovery, venga mantenuto costantemente e dinamicamente valido, collegato con eventuali variazioni che sono intervenute. È fondamentale perché questo rappresenti salvaguardia degli investimenti effettuati. Grazie a tutti! Grazie a tutti!